e buongiorno e bentornati a Iulo l'arte per l'arte oggi parleremo degli ordini greci innanzitutto proprio la parola ordine proviene da ordo che poi vorrebbe dire regola norma pensate che questo termine non risale all'epoca di vitruvio cioè quando scrisse i dieci libri dell'architettura dove parlò anche degli ordini greci ma risale al sedicesimo secolo circa dopo cristo anche perché prima proprio all'epoca di vitruvio si usava il termine norma il termine regola e addirittura al tempo di filippo brunelleschi questo grande architetto della cupola di firenze si usava il termine opera ecco quindi questo termine ordine non è che viene utilizzato da sempre ma fa riferimento alle norme alle regole un po come è il canone per quanto riguarda l'uomo il canone di policleto per proporzionare dimensionare e quindi creare anche una sorta di giusta simmetria fra le parti del tempio quindi tutti gli elementi sono in qualche modo in relazione rispetto a un modulo e il modulo in relazione all'insieme del tempio greco abbiamo visto deriva dalla casa greca e quindi noi dobbiamo sempre tenere come punto di riferimento l'uomo ecco l'uomo è quello dal quale abbiamo già visto nella statuaria abbiamo visto nella proiezione verso quella che è una bellezza ideale che poi ci porta a vedere quest'uomo rappresentato nella statuaria come un dio e il punto effettivo di riferimento quindi il modulo poi effettivo dell'edificio rimane l'uomo ma in particolare se noi dobbiamo andare a cercare un elemento architettonico individuiamo il diametro della colonna ecco è abbastanza normale quando si parla di ordine dorico ordine ionico ordine corinzio pensare che ci sia una sorta di cronologia ma non è esattamente così perché l'ordine dorico chiaramente prende il nome dai dori e noi sappiamo che con quella che fu nel periodo del medioevo ellenico cioè dal dodicesimo secolo la calata dei dori nel peloponneso vi furono e questo lo abbiamo visto nelle precedenti puntate di Iulo anche delle emigrazioni che videro spostare degli Achei verso le coste dell'Anatolia cioè dell'Asia minore e quindi in quell'occasione nacque l'ordine ionico che venne anche a essere utilizzato in molte isole proprio del mare delle cicladi ricordiamo ad esempio l'isola di Lesbo l'isola di Smirne Saffo e poi anche una parte dell'Attica ecco quindi l'ordine ionico fu la contaminazione lo si dice chiaramente in senso positivo di quello che fu proprio il passaggio del popolo greco verso l'Anatolia e quindi dell'influenza orientale della decorazione sul capitello che aveva invece caratteristiche puramente greche ecco quindi l'epoca non è così lontana dal dorico si parla di qualche decina d'anni o anche solo una decina d'anni ecco cioè e si può dire quasi contemporanea ecco per quanto riguarda invece l'ordine corinzio questo sì cioè nasce a corinto ma si sviluppa soprattutto a partire dal quinto secolo per una più precisa utilizzazione e uso a livello proprio di capitello di struttura del tempio sapete che il capitello ha una sua importanza ma quando si parla di ordine attenzione che non si parla esclusivamente del capitello noi abbiamo anche un po' questa sorta di deformazione nel pensare capitello dorico ionico corinzio ma è proprio un insieme che parte proprio dalla colonna di tutto quello che è l'architettura architrabata greca ecco il corinzio si sviluppa soprattutto nell'epoca ellenista cioè quell'epoca che nasce e scaturisce dopo la morte di alessandro romano 323 avanti cristo ecco cominciando dall'ordine dorico noi vediamo che il basamento del tempio viene indicato come crepidoma questo vale per tutti e tre gli ordini sono quei gradini che portano verso il tempio distaccano quella che è la situazione terrena da quella ultraterrena se noi volessimo fare un rapporto ad esempio con la chiesa cristiana potremmo dire che è il presbiterio il luogo dei presbiteri e arrivati sul basamento che si chiama stilobate da stilos colonna quindi la base per le colonne si entra attraverso il prona o si viene filtrati nella casa di dio cioè nella naos dove vi è la statua del dio ecco lì è il luogo dove va esclusivamente il sacerdote ecco nel caso dell'ordine dorico la colonna dell'ordine dorico ma anche dell'architettura architravata tocca direttamente lo stilobate ed è una colonna che ha una sua larghezza piuttosto significativa no che è molto più marcata livello di larghezza ma anche proprio a livello di fusto più imponente vuole dare questo senso del insomma del grande cosa che poi a un certo punto lo stesso vitruvio paragonerà al corpo di un uomo no mentre vedremo che la colonna ionica verrà paragonata alla figura di una giovane ragazza più stilizzata e più filiforme ecco questa robustezza del fusto parte da un diametro inferiore molto largo che va restringendosi verso l'alto si parla di imos capo in quanto fusto viene anche detto scapo e di sommos capo cioè la parte alta quindi avviene una rastremazione inoltre questo fusto è scanalato a circa 20 scanalature con un punto d'incontro fra quella che è una scanalatura e l'altra assolutamente con un angolo piuttosto acuto tagliente che rende molto nette queste scanalature al punto di dare veramente il senso di dello scuro e del chiaro no anche questa nettezza viene riportata verso una certa grandiosità no di questa colonna ecco salendo ritroviamo il capitello il capitello è formato nell'ordine dorico da un echino che è una sorta di bacino o forse meglio ancora sembrano un bacino d'acqua come diametro no che contenga perché e poi alla fine una sorta di catino diciamo così come forma che potrebbe anche no essere paragonata a un bacino ed è tronco conica quindi al di sopra questa si chiama echino proveniente dal termine echinos che non è altro che un riccio di mare che aveva questa forma no arrotondata e quindi al di sopra vi è il cosiddetto abaco da abax cioè tavola una lastra proprio a parallelepipedo quadrangolare ecco questo è il capitello dorico al di sopra abbiamo le strutture orizzontali caratterizzate dalla trabeazione dove abbiamo prima l'architrave no assolutamente fondamentale suddivisa in blocchi no non dobbiamo immaginare che questa trave attraversi tutto il perimetro del tempio rimanendo sempre della sua in un unico blocco no e divisa più blocchi che al punto dell'interasse tra una colonna e l'altra vengono unite da un altro blocco attraverso un perno di bronzo lo stesso avviene per le colonne le colonne non sono in un unico blocco sono più blocchi chiamati rocchi i romani rotulus dicevano e sono unite anche lì da un perno di bronzo ecco quindi abbiamo questa architrave che una delle strutture portanti e tra l'altro l'architrave con quella che sono le strutture verticali e cioè le stilos le colonne formano proprio l'architettura architravata cosiddetta greca e al di sopra dell'architrave ci sta il fregio il fregio dorico è composto dalla metopa e dal triglifo che sono due sorte di piastre no di di mattonelle piuttosto spesse che sono alternate no una metopa un triglifo poi di nuovo una metopa poi di nuovo un triglifo la metopa e il triglifo compongono il fregio che sta al di sopra dell'architrave e la metopa non è altro che un'immagine che rappresenta un mito rappresenta una scena magari d'azione dell'epoca un dio ecco e quindi una sorta di basso rilievo e dietro questa metopa ci sta lo spazio fra una trave l'altra in legno del tetto poi abbiamo il cosiddetto triglifo che è un'altra piastra un'altra mattonella che ha quattro scanalature viene detto triglifo cioè tre scavi perché di fatto sarebbero tre dimensionate cioè due centrali e due laterali che sono la metà uno dell'altra però poi se ne conterebbero quattro no ecco questo è il fregio dorico al di sopra abbiamo la cosiddetta cornice che aggettante cioè sporge verso l'esterno questo per far sì che l'acqua non vada a toccare il colore del delle metope e dei triglifi perché i templi ormai è provato che erano colorati no soprattutto colori nel rosso nel blu nel loro nel bianco ecco e quindi avrebbe potuto danneggiare il tempio tra l'altro gli scavi che ci sono all'interno del triglifo servirebbero proprio per far convogliare queste gocce d'acqua durante la pioggia ecco al di sopra della cornice ci sta poi il timpano perché questa cornice che è aggettante cioè sporge verso fuori come fosse un balcone è da intendersi che contorni tutto quell'elemento triangolare che tanto ci colpisce come frontone del nostro tempio e sta sopra le colonne il frontone è composto proprio dalla cornice e da quell'elemento interno triangolare che si chiama timpano proprio ispirato uno strumento dell'epoca che era triangolare e si chiamava timpano e tutto nell'insieme cornice più timpano fanno il frontone ecco venendo all'ordine ionico notiamo che la colonna è più esile attenzione perché vi parlavo di un modulo del tempio che nel caso del dorico corrisponde a un diametro più ampio perché tutti i moduli del tempio sono sempre i diametri delle colonne al limoscapo ma il dorico essendo più largo si considera un'intera colonna di circa 6-7 diametri di altezza compreso il capitello nel caso dello ionico si parla di 8-9 diametri perché il diametro limoscapo è più stretto cioè meno largo e al di sotto però della colonna ci sta un basamento quindi certo c'è lo stilobate certo la colonna appoggia sullo stilobate ma prima che il fusto tocchi lo stilobate come avviene nel dorico vi è una base questa base viene detta base attica composta da tre elementi uno è il toro che non è altro che una pietra diciamo così no arrotondata convessa che ricorderebbe chiamata così perché ricorderebbe una corda arrotolata no un cordone arrotolato ecco poi abbiamo al di sopra un elemento che non è convesso ma è concavo quindi rientrando che crea con il toro degli effetti di chiaro di scuro e questo si chiama scozia cioè tenebra al di sopra vi è un altro toro di nuovo circolare di questa pietra circolare e quindi abbiamo questa meravigliosa base attica che proviene proprio dall'attica quindi abbiamo il fusto il fusto questa volta comprende da 8 a 9 diametri della colonna al limoscapo però attenzione sempre comprensivi della base attica del capitello il capitello ionico è particolare no perché dicevamo prima che vi è la contaminazione con il desiderio dell'ornamentazione orientale no molto bello molto elegante viene paragonata questa colonna alla all'eleganza di una figura femminile e addirittura la base attica sarebbe la scarpa no della donna ecco questo capitello ha un suo echino molto più basso che avrebbe degli scavi a forma di uovo quindi ovuli e di dardo quindi fatte a cuneo al di sopra avrebbe un elemento nuovo le volute no che si involvono cioè si arrotolano sono quelle due spirali meravigliose con i due riccioli e quindi al di sopra abbiamo un altro abaco più piccolino rispetto a quello intendo dorico quindi abbiamo un architrave che è tripartita cioè cosa si intende che scanalata no scende è un pezzo unico però frontalmente pare che faccia tre piccoli gradini e quindi avviene successivamente lo spazio adibito al fregio il fregio è una metopa continua pensate che meraviglia un racconto che attraversa tutta la il tempio era anche quello liscio no ma poi si cominciano a realizzare questi meravigliosi basso rilievi e al di sopra vi è la cornice quindi il frontone e quindi il timpano ecco il corinzio vi dicevo epoca soprattutto ellenista anche se comincerà intorno al quinto secolo proveniente dal nome dalla città di corinto abbiamo sempre la base attica ma questa volta sotto al primo toro quello che poggerebbe direttamente sullo stilobate ci sta un plinto che è una pietra a parallelepipedo che alza la base attica quindi ci sarebbe una colonna che è ancora meno rastremato c'è un fusto intendo dire che è ancora meno rastremato di quello ionico perché quello ionico è rastremato ma non quanto quello dorico tra l'altro approfitto per dirvi che la colonna dorica prevede un entasi l'entasi è un rigonfiamento che sta a un terzo dell'altezza della colonna e serve per dare questo senso di imponenza per questo viene rappresentata e raccontata come fosse una figura maschile è un gioco ottico che i greci utilizzano per dare l'impressione che la colonna sia più robusta tornando alla colonna corinzia il fusto è comprensivo di circa 10 diametri dell'imoscapo quindi dovete immaginarli girati in altezza 10 volte in altezza non solo torno a dire il fusto ma anche la base attica e quindi il capitello il capitello è particolarissimo assomiglia viene detto calato quella che è l'elemento tronco conico che è come fosse rovesciato dove la parte diciamo più stretta sta in basso e si allarga verso l'alto sarebbe stato ispirato da un cesto che conteneva le foglie d'accanto questa queste foglie questa pianta che era considerata nella grecia una pianta di grande valore anche perché era esclusiva di quei luoghi queste foglie sculturate realizzerebbero tre corone quelli diciamo più maestosi mentre arriverebbe fino a due corone di foglie la prima più piccole poi più grandi quindi ci sarebbe o la terza corona oppure subito delle volute che sarebbero esattamente otto di cui quattro sono proprio frontali al centro di ogni lato mentre quelle più grandi sono su ogni spigolo del calato quindi complessive complessive otto volute ecco al di sopra troviamo poi ancora all'altezza dell'abaco troviamo proprio il fiore d'abaco che è un fiore che viene generato da quelli che sono gli steli che fuoriescono dall'ultima corona delle foglie d'accanto e è posto lì al centro ecco questo è il capitello corinzio voglio ancora dirvi due particolari che riguardano proprio gli effetti ottici pensate che il basamento cioè lo stilobate avendo i greci l'impressione che da lontano sembrasse concavo lo incurvarono convesso e quindi c'è una leggera curvatura che lo rende convesso per dare l'impressione che sia diritto le colonne che stanno ai lati della facciata minore e della facciata maggiore sono inclinate verso l'interno per dare l'impressione che tutta la facciata non inclini verso l'esterno ecco pensate questi greci a che livello arrivavano per favorire il gusto dell'estetica qui siamo proprio nel campo dell'estetica dove è anche etica e per poter però affrontare anche in maniera pratica questa opera che era questo edificio meraviglioso che doveva ospitare la statua dei propri dei io vi ringrazio molto per la cortesa attenzione e vi rimando al prossimo appuntamento di Iulo l'arte per l'arte che sarà dedicato questa volta a un autore che ci parla e ci racconta della decadenza della grecia dopo le guerre del peloponneso prassitele grazie per la cortesa attenzione e a risentirci da marino ferraris ciao